Vak andrea va dentro, a cercare un altro cross, ballone per Redefranche, la torre per Benzino! La ripresa, Benzino! La ripresa, Benzino! E' un'uomo per Willemann! E' un'uomo per Willemann! Non è possibile! E' l'uomo della Champions! E' l'uomo della Champions! Addio, Benzino! La guerra torre! L'ultima parola! E' sempre l'oro! E' sempre l'oro! L'ultima parola nel calcio era l'oro! Hanno un cuore di ferete, lo capiscono? L'articchio che graffia, che lascia il segno nella storia di Viter! Questa è la storia che si ripete! E' il 22 maggio o il 18 settembre! Ma l'ha presa Benzino!